Ciao e ben ritrovati nella nostra consueta rubrica segreti da maestro. Oggi parleremo della tecnica del massaggio Thai oil. Il Thai oil meriterebbe di essere conosciuto da ogni massaggiatore per molti motivi e uno dei principali è la sua storia. Questa tecnica fu infatti sviluppata oltre 2500 anni fa da Jivaka Kumarbaka, amico discepole medico personale di Siddhartha, il Buddha. Primo segreto da maestro. Il Thai oil affonda le sue origini nella medicina tradizionale thailandese ed è quindi volto a portare il benessere sia al corpo che allo spirito. Quando si imparano i massaggi come questi di origine orientale e millenaria è impossibile trascurare la teoria del sistema energetico che attraversa il nostro corpo. I SEN SIB, i canali energetici collegano corpo, muscoli, organi e mente. Chi pratica questa medicina tradizionale li ispeziona in cerca di uno sbilanciamento e questo massaggio è una delle tecniche volte a riequilibrarli. Sempre secondo questa disciplina lo squilibrio energetico è spesso causa di molte malattie note. Ecco perché un massaggio come questo può dirsi multifunzionale. Oltre al rilassamento che viene indotto dal Thai oil aiutato anche dall'utilizzo di erbe aromatiche e oli essenziali questa tecnica può essere anche un valido aiuto per chi soffre di svariati disturbi come insonnia o stress traumatico. La sua versatilità, la sua delicatezza rende quindi il nostro Thai oil un massaggio davvero indicato a qualunque tipo di cliente e di ogni età. Secondo segreto da maestro. A differenza del massaggio thailandese tradizionale il Thai oil si pratica sul lettino ma senza sacrificare le manovre di stretching che sono tipiche del massaggio tradizionale. Le digitopressioni tipiche quindi del massaggio tradizionale vengono sostituite da lunghe frizioni applicate molto lentamente. Questo massaggio infatti ha una natura estremamente rilassante e non c'è ombra di passaggi dolorosi. Le frizioni eseguite seguendo i canali energetici danno poi il cambio a semplici manualità di stretching che sia per l'operatore che per il cliente non fanno assolutamente rimpiangere l'assenza del tatami. Lo stretching lento e non invasivo è di ottimo corredo al lavoro effettuato sui canali sen e donerà ulteriore energia ed elasticità al cliente che stiamo trattando. Terzo segreto da maestro. Il massaggio Thai oil ha effetti benefici a livello fisico, psicofisico, energetico ed emozionale. Con questa tecnica si lavora su tutto il corpo dalla testa ai piedi. Avremo quindi un sollievo per le tensioni muscolari, un miglioramento a livello articolare e un leggero drenaggio linfatico. Per il cliente che ha bisogno di una pausa per se stesso questo massaggio è particolarmente indicato in quanto riduce i livelli di stress e di ansia. Inoltre derivando dai principi di medicina tradizionale orientale il Thai oil riequilibra i canali energetici. e proprio grazie a questo sblocca il cliente a livello emozionale. Un effetto che va oltre i principi spiegabili dalla scienza ma che ciò nonostante viene confermato dalla grande maggioranza di chi si sottopone questo trattamento e che innegabilmente aumenta il fascino di questo massaggio giunto fino a noi dopo migliaia di anni. Se sei interessato ad imparare questa tecnica il massaggio Thai oil contattaci e ti aiuteremo a trovare la sede di Abagi più vicina a te.